Il prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, ha ricevuto questa mattina da Confcommercio Marche Nord un faldone che mette nero su bianco le comparazioni di gran parte delle bollette delle imprese associate e i loro vertiginosi aumenti. Numeri insostenibili che si abbinano a richieste percorribili, quelle rivolte ad un governo che rischia di far abbassare le serrande a imprese di commercio, ristorazione, ricettività alberghiera e terziario. Confcommercio prova dunque a far leva sul prefetto per indurre il governo Draghi a misure concrete e non a fumosi pagliativi. Abbiamo consegnato al prefetto una serie di casi, di bollette insomma della nostra provincia da cui si emerge che gli aumenti che le aziende devono sopportare non sono come dice la politica o anche una parte della stampa del 40-60% ma tra gli aumenti del 2021 e quelli ultimi siamo oltre il 200% di aumento e non c'è nessuna azienda in Italia ma credo nel mondo che da un anno all'altro dopo aver fatto previsioni, bilanci eccetera possa sopportare aumenti del genere. Peraltro in un momento in cui ancora nella nostra provincia non ci sono le strutture alberghiere aperte perché la grande maggioranza sono stagionali ma quando riapriranno con questi costi dopo aver definito già l'anno scorso i prezzi con i tour operator, fatti i contratti, fatti gli accordi si trovano in una situazione non gestibile per cui abbiamo chiesto al prefetto di farsi rappresentante della nostra provincia oltre che rappresentante di governo per chiedere al governo come noi chiediamo nel documento interventi incisivi che non possono essere dei panicelli caldi come quelli che fino adesso ha fatto il governo. Servono interventi forti, consistenti, anche con uno scostamento di bilancio che pare che invece il Presidente Draghi non voglia realizzare. Chiediamo anche che ci sia giustizia perché anche l'ultimo decreto fatto dal governo ha previsto una riduzione degli oneri di sistema che sono la parte preponderante della bolletta energetica perché il 70% della bolletta sono oneri di sistema cioè tasse accise, decise dal governo tramite l'autorità la Rera, mentre solamente il 30% è materia prima. Enormi le preoccupazioni di un settore alberghiero stagionale che deve ancora aprire i battenti. Ci disorienta perché non abbiamo anche un modo di sistema di come comportarsi perché se si alzano troppi prezzi la clientela non viene, se non si alzano si chiude, come si fa si sbaglia. Quindi se il governo non interviene ad aiutarci in qualche modo credo che quest'estate sarà veramente un'estate triste. Ci sarà anche una grossa inflazione, cioè non ci sarà più potere di acquisto perché aumentando le bollette sia le imprese saranno in difficoltà ma anche le famiglie non avranno più potere d'acquisto per andare poi nelle attività commerciali, nel terziario. E questo sarà veramente un problema. Metterà ancora ulteriormente in ginocchio il commercio, le imprese e tutto il terziario. Quindi è importante intervenire. In questo momento la cosa su cui si può anche intervenire da parte delle amministrazioni comunali è sicuramente anche l'Atari, nonché l'acqua. Cioè intanto intervenire sul concreto da parte delle amministrazioni comunali che è il punto in cui in questo momento sicuramente si può un attimo cercare di aiutare le imprese. Ma da parte del governo ci deve essere comunque un intervento importante non i 4-5 miliardi che si dice ma molto di più perché comunque quello basta per magari le grosse imprese ma per le piccole imprese saranno costretti a chiudere, i lavoratori saranno costretti a andare a casa e questo noi non ce lo possiamo permettere. Non vorremmo che le imprese che hanno resistito al lockdown da Covid-19 oggi debbano morire per il lockdown economico determinato da questi insensati aumenti del costo della bolletta energetica.